Il cane è nella sua cuccia La macchina è nuova Il quadro è molto bello La finestra è chiusa Il giornale è sul tavolo Il limone è giallo L'aula è luminosa La mela è marcia Lo zio di Anna è svizzero La matita è sul banco L'autobus è arancione Lo zaino è pesante Il cassetto è aperto La poltrona è comoda Il computer è acceso Il gatto è sulla sedia Questa è la mia La mia L'autobus è la mia L'autobus è arrivata La mia Questa è la mia Grazie a tutti. Grazie a tutti.